salva di cappon p fan e benvenuti in questo nuovo video di intanto in thailandia dove appunto in questo video parlerò del fatto che la t e ti c'è l'autorità del turismo thailandese sta pianificando di a promuovere il turismo nel nord est della thailandia per quanto riguarda il periodo invernale naturalmente come al solito il link all'articolo lo puoi trovare sotto in descrizione inoltre volevo invitarti se ancora non l'hai fatto ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video inoltre volevo anche invitarti se vuoi lasciare dei like sotto questo video che cosa buona e giusta e inoltre volevo anche invitarti sempre se vuoi a condividere questo video sui tuoi social perché come dico sempre magari a te questo video interessa così e così ma magari hai degli amici sui social cui potrebbe interessare di più e quindi bene detto questo non resta che leggere l'articolo ok l'udontanio c'ho sempre ma lo dimentico sempre ragazzi io chiedo scusa sembra un alberello di natale per quanti addobbi c'ho addosso questo non lo posso levare se no la mia ragazza mi ammazza perché è bellissima dolcissima buonissima ma quando si arrabbia è un'arma letale quindi siccome vorrei vivere ancora qualche altro giorno o mese quindi non la facciamo arrabbiare quindi dicevo l'udontani office of the tourism authority of thailand c'è la tat sta pianificando campagne per promuovere il turismo in tre province nord orientali durante la stagione fredda verso la fine dell'anno e l'inizio del 2021 quindi regioni nord orientali le regioni nord orientali ferro e freddo le regioni nord orientali quindi sarebbe la zona appunto dell'isane le campagne promuoveranno le province di udontani non cai e buencan ha detto paona prajit direttore dell'ufficio della tat la campagna principale chiamata morgul isane mira a presentare interessanti attrazioni turistiche in ogni provincia come il mar dell'oto rosso a udontani il mar della nebbia a non cai e la grotta di naga a buencan ha diversi gruppi target quindi stanno cercando di promuovere quindi di raggruppare gente farei dei gruppi da mandare per visitare queste regioni queste zone e le attrazioni di queste zone questi gruppi target vanno dagli anziani ai viaggiatori d'affari e al pubblico in generale ha detto sempre il pa il signor paona prajit stiamo anche pianificando di organizzare attività in città che non hanno attrazioni turistiche come festival del cibo sano ed eventi sportivi per attirare i viaggiatori della gen y cioè generazione y non so saranno young penso e gli appassionati di sport difficilmente penso che un novantenne potrebbe essere appassionato di sport praticare sport e così via la tt promuoverà anche i viaggi durante i giorni feriali offrendo pacchetti speciali in camera e pasti complementari per alleviare l'affollamento e gli ingorghi che di solito si verificano nelle attrazioni turistiche durante i fine settimana e le vacanze aggiunto sempre il signor paona prajit bene piccolo break volevo invitarvi se ancora non l'aveste fatto ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video inoltre volevo anche invitarvi se volete a lasciare dei like sotto questo video e se volete anche a condividerlo sui vostri social che male non fa è gratis e quindi è una cortesia che si può fare ragazzi se volete allora aggiunto l'attrazione caratteristica di udontani è il lago non han meglio conosciuto come mar del loto rosso nel distretto di kumpa wapi il lago copre un'area di 22.500 rai che equivalgono a circa 3600 ettari quindi abbastanza grande con innumerevoli fiori di loto rosso che fioriranno da metà dicembre fino all'inizio di marzo quindi sarà un bello spettacolo ci saranno praticamente tre mesi e mezzo di spettacolo di insomma bello non cai è ricca di attrazioni storiche risalenti all'impero lang shang lang shang non so se si pronuncia così nel tredicesimo dice che è l'impero che va dal tredicesimo al diciassettesimo secolo ha anche diverse montagne come pupa dak punong e puai isan nel distretto di sri chiamai dove i turisti possono accamparsi sulle scime delle montagne assistere al mare di nebbia al mattino situata nel parco nazionale di pulang kaa la grotta di naga di buen khan è recentemente diventata famosa come un avventuroso percorso di trekking più impegnativo del famigerato pu kraduang della provincia di loei solo 350 viaggiatori al giorno possono prendere il percorso che culmina in una delle grotte più belle della thailandia quindi questo articolo dice che la t e ti sta cercando di valorizzare e promuovere il turismo nel nord est della thailandia quindi nelle regioni dell'isane quindi lontani non cai che non cai è una piccola cittadina al confine con il laos sì con laos apparentemente io la conosco solo di passaggio perché ci andavo il soffione dell'erba la conosco solo di passaggio perché attraversava passavo questa cittadina e poi attraversavo il ponte dell'amicizia per andare a vientien a rinnovare il visto però è stupenda e carina meriterebbe tanto di essere visitata e poi c'è invece buen khan che io non conosco però penso che meriti anche questo posto di essere visitato bene ragazzi detto questo cocuma crap per avermi seguito fino a questo momento speriamo di tornare in thailandia presto e di poter andare a visitare questi tre queste tre località dell'isane e noi il nostro compito lo vogliamo fare se possiamo aiutare il turismo terandese io volentieri detto questo niente il video termina qua volevo invitarvi se volete iscrivervi al canale a cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati inoltre volevo anche invitarvi se volete a lasciare dei like sotto questo video e se volete sempre a condividere questo video sui vostri social e noi ci vediamo il prossimo video leo pogamai punì ci vediamo domani ciao ragazzi ciao